Domani Francesca deve rimanere a scuola e le devo fare il pranzo o meglio i panini. Non ho il pane! Nessun problema, ci penso io. Oggi prepariamo il pane con le noci. Oggi è domenica e non mi vado ad andare a fare la spesa, per cui mi arrangio con le cose che ho in casa. Quindi userò mezzo chilo di farina, che miscelerò tra farina 00 per pizza e farina ai sette cereali. Una bustina di lievito mischiato tra lievito madre e lievito per pizze. Un po' di sale, delle noci, perché così faremo il pane con le noci. Un po' di strutto e dell'acqua per miscelare bene il tutto. Mischiamo bene gli ingredienti, mischiamo bene gli ingredienti, li lavoriamo molto, con grande amore. Poi se abbiamo un po' di tensione sbatacchiamo pure un po' la pasta, così scarichiamo tutti i nervi che abbiamo. Poi se abbiamo un po' di tensione. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Li facciamo lievitare in un ambiente caldo, non eccessivo e dopo diverse ore, che può essere anche più di otto ore, più si lascia lievitare meglio è. E il risultato sarà questo. Adesso la pasta è ben lievitata, vedete? Guardate com'è. Bella, bella. E facciamo i panini. Preparo un po' d'olio con qualche goccio d'acqua. E un pochino di sale che miscelerò e spellerò sopra ai panini. E facciamo i panini. E facciamo i panini. Adesso inforniamo. Allora la temperatura del forno è a 180 gradi e li lasciamo lì per circa 15-20 minuti, però controllate sempre perché ogni forno lavora in un modo diverso. Nel frattempo puliamo tutti i recipienti così si crea un po' di ordine, se no si lavora nel caos e non è una buona cosa. Sono passati 20 minuti circa, ho controllato, adesso sforniamo e insieme vediamo il risultato. Questo è il risultato finale. Allora, avevo provato a fare due formati, uno tondo, che devo dire più carino, e uno tipo schiacciatina. Hanno la stessa consistenza, adesso provo a tagliare la schiacciatina. Ecco, se voi vedete questa specie di alveare che si è creato all'interno indica che c'è stata una buona lievitazione e quindi questo ci rassicura. è cotto, perché è tutto cotto, e noi facciamo così. ci mettiamo un po' di salame, se vogliamo un po' di formaggio. e adesso assaggiamo il risultato finale. Vado eh! Buono! Sono stata brava! Meno male, ho il pranzo per domani per Francesca! Ciao! Grazie a tutti.